Musulmani che da anni vivono nell'agro, in provincia di Napoli, in Campania, musulmani che in Italia lavorano, hanno la loro casa, la loro famiglia, si sono ritrovati a Sarno in piazza 5 maggio per gridare il loro no al terrorismo, per pregare per le vittime di Parigi, invocare pace. Saeed è marocchino, è in Italia da 16 anni, vive a Sarno, lavora a Cava, ci tiene a ribadire che musulmano non significa terrorista. Siamo i musulmani, tutti diciamo bravi, gli baci, tutti italiani, tutti siamo musulmani, non facciamo niente di terrorista, noi siamo contro questi terrorista, perché vogliamo bene tutti qua, non è che stiamo facendo qualcosa, niente. Tu da quanto tempo sei in Italia? Qua 16 anni qua in Italia. Voi avete paura, sentite un po' di rabbia della gente? Noi non siamo paura perché non paura nessuno, perché il Dio guarda, allora quando guarda il Dio, significa che il Dio vuole bene tutto qua, allora questi terroristi che fanno, questa è la cosa, non significa niente l'islamico, diciamo, chi lo dice nell'islamico? Però Dio non dice che fare questa è la bomba, di fare questo, no? Come il Corano, noi queste cose non hanno scritto niente di fare queste cose. Concetti ribaditi da tanti altri musulmani che in Italia si sentono a casa. E' ben chiaro che l'islamico non c'entra niente con il terrorismo, magari se era una manifestazione della comunità, perché noi ci sentiamo membri della comunità, magari a me mi avrà piaciuto organizzare come la comunità sarnese contro il terrorismo. La comunità sarnese è composta da musulmani, ebrei, atti e tutte le fede, che siamo stati a dichiarare sempre che la religione islamica non c'entra niente con il terrorismo, perché questo è palese. Il terrorismo è un'altra cosa, il terrorismo è la nuova arma che stiamo usando per creare interessi politici, interessi economici, che non c'entra niente alla religione. In ultimamente c'è la dichiarazione del Dalai Lama, il male l'hanno creato gli uomini, non devono chiedere a Dio di toglierlo, loro devono risolvere il problema tra loro per eliminare il male. Che cosa pensa di quello che è accaduto in Francia, del terrorismo? Malamente, malamente, mi spiace, malamente, veramente, mi spiace assai. Che pensate dei kamikaze? Non mi piace proprio, il terrorismo, la gente è certa, è ammazzata, non mi piace. E' malato? Malato, 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 non è buono. Le persone che sono morti non hanno fatto niente, non hanno fatto niente, le femmine, le maschie, non hanno fatto niente, come è morire così? Pensavo che queste cose qua non vanno bene, non vanno bene per l'omenalità. L'Islam non è che è un religione terrorista. L'Islam è una religione di baci, di gente che devono bregare il Dio. L'Islam non è un religione di baci, di gente che non ha fatto niente, 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 non ha fatto niente.